buonasera a tutti oggi sono veramente molto contento di essere qui finalmente perché non tanto l'aria dobbiamo dire che siamo tutti tamponati perché si sarebbe mai avvicinato c'è mia moglie collegata sono veramente molto contento perché innanzitutto ho l'occasione di fare i complimenti a tutti quelli che hanno vinto questo mese e so quanto è importante avere questa gratificazione dopo aver fatto veramente un buon lavoro nel mese diciamo che questo è un momento di coronamento di quel buon lavoro e sono convinto che ognuno di voi che ha vinto ne sarà veramente veramente soddisfatto bene inoltre ho una buona notizia insomma ormai ci siamo un po abituati però secondo me è sempre una buona notizia abbiamo deciso di essere in campagna pubblicitaria nel nei prossimi giorni esattamente per tre settimane sono circa 180 passaggi sui canali rai quindi rai news rai 1 rai 2 rai 3 e le settimane sono dal 16 quindi dal prossimo 16 maggio al 29 maggio le prime due settimane e poi ci sarà la terza settimana che va dal 6 giugno al 12 giugno abbiamo escluso dalla campagna pubblicitaria i sabati e le domeniche perché visto appunto ormai questo allentamento grazie a dio di questa di questa diciamo di questo virus che ci ha un po tenuto tenuti eh chiusi eh probabilmente molto probabilmente sia la domenica la gente andrà fuori quindi pochi vedranno allora abbiamo voluto concentrare quei 180 passaggi appunto nei cinque giorni di ogni settimana bene a proposito di questo io vorrei dirvi così perché non mi stancherò mai di farlo quindi lo faccio anche questa sera magari vi vi annoio qualche volta però lo voglio fare anche questa sera e noi come sapete eh siamo ormai al quarantesimo anno di attività e in tutti questi anni ci siamo guadagnati la la credibilità di tutti i nostri clienti ce la siamo guadagnate guadagnati come ovviamente facendo un'attività professionale seria trasparente e questo e questo ha fatto sì che questa credibilità porta spesso tutti i nostri clienti a chiamarci oppure entrare nelle nostre agenzie e oppure mandarci dei form facendoci presente il loro desiderio di vendere la loro casa ecco questa per noi è una grande opportunità alla quale sono convinto che noi rispondiamo sempre al massimo livello ma è importante vorrei sottolineare anche questo che sappiamo che quando succede questo e a noi succede spesso grazie appunto al nostro buon lavoro di tutti questi anni noi saltiamo a pie pari un'attività che richiede veramente un impegno importante che sarebbe appunto la ricerca degli immobili appunto per poterli poi porre in vendita ecco quindi noi riusciamo a saltarla a pie pari attraverso appunto l'opportunità che i nostri clienti eh grazie alla credibilità che ci siamo guadagnati ci danno e allora veramente non mi stanco mai di raccomando mi stancherò mai di raccomandarvi di alzare sempre di più l'asticella di attenzione verso i nostri clienti i nostri clienti dovranno essere soddisfatti dovranno darci l'incarico sempre con maggiore fiducia perché devono sapere che noi siamo sempre e completamente a loro disposizione per far sì che il loro immobile sia venduto nel modo migliore e nel tempo necessario ma giusto affinché loro possano realizzare il loro desiderio ecco questo eh so che ve l'ho già detto tante altre volte ma continuerò a a volervelo dire perché l'asticella eh alzare l'asticella dell'attenzione verso i nostri clienti eh fa sempre bene fa sempre bene quindi eh abituiamoci come il salto in alto no ogni tanto uno alza l'asticella ecco facciamo così anche noi e sicuramente tutto quello che di bello ho sentito questa sera gente soddisfatta contenta di aver vinto sicuramente continuerà ad esserci sempre di più sempre con migliori risultati sempre soprattutto con maggiore soddisfazione professionale che anche quella dirà i risultati è una parte importante della nostra vita professionale bene grazie ancora dell'attenzione che mi avete dedicato in ultimo mi hanno messo in ultimo però insomma sono contento di di essere qui eh insomma è l'ultimo no sperando importanti sperando sperando sempre che abbiano atteso la 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 mia voce insomma il dico c'è proprio in questo momento adesso lo verificheremo lo verificheremo bene grazie ancora a tutti un caro abbraccio e spero di incontrarvi anche presto magari anche fisicamente non più solo attraverso la tecnologia perché insomma ormai veramente sono passati troppi mesi e non riesco a vedere la mia grande famiglia la mia seconda grande famiglia grazie ancora e di nuovo buonasera da tutti un saluto a tutti e un abbraccio ciao 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 ciao